Il campo partenti, Red d'amore, Davide Cangiano, Belisco Diff, Vincenzo D'Alessandro Junior, Mitico Miller, Vincenzo Luongo, Rolex Va, Pasquale Matera Junior, Luperbox SM, Renato Angeletti, Rendi e K, Antonio Esposito 90, Panzer LP, Antonio Improda. In seconda fila, Nukov, Cloudlet, Warner Martellini, Oplaui, Paolo Speziali, Runaway Duke, Alessandro Olezzo, Romanov B, Enrico Bellei, Owensgar, Vincenzo, Minopoli, Nabluz, Francesca Croce. Owensgar di galoppo in fase di allineamento. Ai ai ai, Owensgar che resta lontano. Ha perso non meno di 50 metri, Owensgar, intanto c'è battaglia per il comando con lungo la corda Red d'amore che rientra all'Uperbox SM. Dalla seconda fila filtra bene Nukov, Cloudlet, intanto in terza ruota avanza Panzer LP, 14,2 per i primi 200 metri. I cavalli che hanno completato la prima curva Red d'amore in vantaggio di rincalzo, Nuk, all'esterno l'Uperboxa. In terza continua nel suo pressing Panzer LP, seconda pariglia esterna per Mitiko Millar. Si va intanto verso il completamento dei primi 600 metri. Il favorito Romanov B è in quarta pariglia esterna. 45,5 per i primi 600 metri. In vantaggio sempre Red d'amore, l'Uperbox allargo. Poi in corda si mantiene Nukov, Cloudlet, davanti a Obelisco Diff. Allargo in seconda pariglia Mitiko Millar. Terza pariglia esterna per Runaway Duke. Intanto i concorrenti vanno verso il completamento del primo chilometro, con la mossa in terza ruota di Romanov B che si porta sui primi. Cerca di seguirlo in terza anche Oplawi. Intanto Romanov B si porta sulla coppia di testa formata da Red d'amore e Mitiko Millar, mentre ha ceduto, sbaglia intanto, Mitiko Millar. Ha girato da Romanov B che prova l'aggancio a Red d'amore. In vantaggio Romanov che prova l'aggancio di dentro. Nukov, Cloudlet, poi Obelisco Diff che cerca di scattare sui primi mentre ha rotto anche Oplawi. Obelisco Diff va all'attacco del gruppo di testa mentre si è liberato anche Nukov Cloudlet dalla scia di Red d'amore e alla fine è Nukov Cloudlet che viene a vincere su Obelisco Diff Romanov B. Red d'amore, Luper, Boxa, SM, 2-2 scarso, prima che ci tolgano la linea. Il totale 2-0-1-9. Il totale, la vittoria per Nukov Cloudlet e Warner Martellini, i colori della signora Doriana Carfagna. Eccolo il momento in cui Nuk si libera dalla scia di Red d'amore e viene a concludere netto e facile vincitore. Ha indovinato tutto, la partenza alla seconda fila, benissimo, è filtrato e poi il momento dello stacco, il momento in cui ha trovato l'aria, anche un pizzico di fortuna. E alla fine vince nettamente su Obelisco Diff e Romanov B. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.